La stazione di Porta Susa a Torino, forse non è dei progetti più importanti, più interessanti di cui parlare, però mi serve come spunto per criticare un concetto, un'idea progettuale che a mio avviso ha alcune criticità, ma appunto che non è soltanto il caso di Porta Susa, ma mi serve per prenderlo d'esempio per anche tanti altri progetti, per cui si basano su un concetto progettuale riferito in questo caso per esempio alle gallerie ottocentesche della stazione ferroviaria reinterpretate in chiave moderna, ma poi come adesso vi faccio vedere ci sono parecchie criticità per cui rientra secondo me in questa categoria di archipirla. Questa serie che ho creato sulle fesserie progettuali che creano gli architetti. Allora quindi vi parlo di Porta Susa anche in particolare perché essendo io di Torino insomma quasi, l'ho vista, l'ho rivista, non è un brutto progetto, è premetto esteticamente gradevole, però ecco adesso andiamo a analizzare un po' meglio quali sono queste criticità. Allora parto da, se non la conosceste, la stazione di Porta Susa è abbastanza recente fatta dall'architetto Silvio Dash insieme allo studio Arep, che è uno studio francese, con anche Agostino Magnaghi e comunque è composto diciamo da una galleria vetrata con una struttura ferro e vetro, una galleria con una sezione diciamo circolare e lunga o anche più di 300 metri, che è comunque la lunghezza di un treno ad alta velocità e comunque con tutta un'area, con area dei servizi dedicati ai viaggiatori dove ospitano anche tutta una serie di volumi che dovrebbe essere per il commerciale o dove la biglietteria e tutti i servizi che può avere una ferrovia e poi anche con tutti dei livelli sottostanti dove ci sono i port stage, i locali tecnici e quant'altro. Questa è un po' la descrizione del progetto e come vi dicevo questa enorme copertura circolare in ferro e vetro, vetrata, è una, a seconda dei progettisti, una reinterpretazione in chiave moderna delle gallerie urbane, così dicono, comunque delle gallerie delle città italiane del XIX secolo o comunque delle hall ferroviarie delle stazioni ottocentesche. E mi piace il concetto, è giusto, è bellissimo, pensate a queste coperture enormi, per esempio la stazione di Milano, così come le abbiamo in tutta Europa, da Londra a Parigi o a Berlino c'è un'altra stazione anche contemporanea che si ispira a questo concetto. E quindi l'idea mi piace, mi piace già l'idea dell'Ottocento e mi piace reinterpretarla in chiave moderna. Però, ecco, qual è la criticità? La criticità è che il concetto chiave di queste coperture era quello di proteggere i viaggiatori che accedevano al treno, che potessero essere protetti dalle agenti atmosferici. E quindi si trovavano sopra, come dire, proteggevano i passeggeri e i treni e la ferrovia, giusto? E nel caso di Porta Susa non ci sono i treni, sotto la galleria non ci sono i treni, perché i treni si trovano a un livello sotterraneo sotto, diciamo, la strada che passa lato e quindi già non risponde a una caratteristica principale di queste gallerie. Inoltre, come sappiamo, il ferro e vetro, il vetro in particolare, cioè fa passare i raggi solari, il calore, penetra all'interno, ma non lo fa più, diciamo, uscire e fa l'effetto serra. Ovviamente le serre sono fatte con questo principio. Però le gallerie dell'Ottocento cosa avevano? Avevano un enorme spazio aperto dove accedevano i treni, cioè dove ovviamente non veniva chiuso, era aperto e quindi il ricambio d'aria avveniva tranquillamente, non si creava l'effetto serra e quindi ovviamente voi penserete a Porta Susa è aperto, sbagliato. La stazione è chiusa, a parte ovviamente alcune aperture laterali dove si accede. Però vi posso garantire che si crea tranquillamente l'effetto serra, che potrebbe essere, diciamo, ecosostenibile, parlando di risparmio sul riscaldamento, nonostante non sia un ambiente che debba essere riscaldato, quello di una stazione, ma in realtà non funziona neanche bene perché d'inverno fa freddo e in estate si muore di caldo, ve lo posso garantire. E quindi anche in questo caso non va a rispettare una caratteristica principale che c'era in un concetto, in questo concetto ottocentesco. Cioè se la reinterpretazione in chiave moderna deve portare una miglioria, una miglioria d'accordo reinterpretarlo anche esteticamente in maniera contemporanea, ma anche una miglioria proprio praticamente. Non lo so quale potrebbe essere, ma deve esserci uno sforzo nel non fare peggio perlomeno. Ecco, probabilmente lo sforzo è stato quello di mettere delle cellette fotovoltaiche sopra a questa copertura vetrata per quindi renderlo più ecologico. E tra l'altro ha ricevuto anche un premio solare europeo nel 2012 per appunto questa copertura, questo sistema fotovoltaico che recupera parte del fabbisogno elettrico della stazione. In realtà non credo molto al fatto che si possa considerare ecosostenibile come soluzione, ma in ogni caso benvenga che ci siano i pannelli fotovoltaici. Insomma anche su questo punto avrei anche un po' da ridire, in quanto se si fosse progettato in maniera migliore, a mio avviso si poteva sfruttare molto di più su pannelli fotovoltaici che non siano queste cellette che ti costa probabilmente tre volte tanto un pannello fotovoltaico migliore, tra l'altro disposto in maniera circolare su questa copertura, quindi sappiamo che il pannello debba essere esposto a sud, quindi ha un'esposizione anche abbastanza parziale. Insomma lasciamo a parte questo discorso che comunque se c'è un'attenzione all'ambiente a recuperare un po' di energia benvenga, però ecco non mi piace definirlo che sia proprio un'architettura che guardi molto all'ambiente. E quindi mi fermo qui su questo argomento, anche se ricordo i render che appunto all'interno di questa copertura vedevi anche alcune piante, vedevi tanta gente, il risultato finale è che le piante sono state messe da poco su dei vasi e quindi non è che facciano molto e sopravvivono, poverette, stanno lì un po' a stento e inoltre poi la gente, insomma è tutta la gente che veniva rappresentata, insomma sì adesso si sta un po' popolando, però è stato un enorme fallimento anche economico, proprio perché nessuno ha voluto investire, non si è creato un ambiente commerciale, nessuno ha voluto investire proprio perché progettualmente ha tante pecche, ma insomma non entriamo in questo argomento anche perché mi piacerebbe parlarne, proprio perché il concetto di stazione specialmente all'estero mi viene in mente soprattutto in Germania è proprio diverso da quello che abbiamo. Lì sono proprio dei centri di ritrovo, di convivialità, forse anche proprio per il clima più freddo, quindi sono negli ambienti chiusi, protetti dalle intemperie e quindi dove la gente preferisce anche passare del tempo e lì soprattutto tutti questi concetti sono proprio non pervenuti. In ogni caso ecco quello che volevo focalizzarmi, che non è soltanto su questo progetto, ma sono su tanti altri progetti, questo è il volere di reinterpretare qualcosa nel passato, però ecco se lo vuoi reinterpretare lo devi migliorare, devi portare secondo me una trasformazione in termini estetici e pratici migliori del passato e non come in questo caso e come in tanti altri invece peggiori o soltanto una maniera di descrivere un progetto, cioè sarebbe stato molto più onesto dire faccio una copertura vetrata perché mi piace, perché è esteticamente gradevole ma non c'entra niente ecco, dimenticatevi della stazione ottocentesca perché erano degli esempi molto più belli, molto più interessanti rispetto a una galleria fatta recentemente ecco. questo è quello che è il punto in cui insomma mi voglio focalizzare su questa puntata, di archipirla. E quindi seppur ho iniziato che esteticamente è un progetto gradevole, soprattutto anche io stesso ho fatto delle foto, è molto diciamo fotografabile devo dire e non è un progetto assolutamente negativo, però ecco non prendiamoci in giro, non prendiamo dei riferimenti nel passato per farli peggiori nella contemporaneità.